La valenza per le proloco di questo progetto qual è? Come si applica poi nel concreto? Soprattutto è molto importante perché comunque dà spazio ai giovani di conoscere il nostro territorio, i nostri intoteri, i nostri borghi, le nostre città. Questo è fondamentale. Fondamentale e prezioso è il lavoro della responsabile regionale perché come tutti noi sottraiamo tempo alla famiglia quindi un lavoro prezioso per tutta la regione Marche perché questi ragazzi sono a disposizione delle proloco, comunque una piccola attività lavorativa che comunque svolgono e questo servizio ci permette di formare i ragazzi. Formare i ragazzi nella conoscenza del territorio, nella conoscenza comunque ampia oltre che legata allo stretto progetto ma anche si formano nell'accoglienza, nei nostri uffici turistici, nell'accoglienza delle persone, dei turisti che comunque vengono nel nostro proloco. Oggi siamo qui a Fano, innanzitutto grazie alla proloco di Fano che ha ospitato il servizio civile regionale per questo corso di formazione oggi e da qui penso che possa partire un grande progetto importante anche di promozione territoriale legata agli IAT. Noi stiamo lavorando su questo assieme al servizio civile nazionale che in questo caso con la nostra responsabile regionale e da qui pensiamo di poter mettere in rete tutto il nostro patrimonio culturale, artistico, architettonico della nostra bella regione Marche e della nostra provincia di Peso Urbino.